Ciao traders, siete su Scalping the Bull. Oggi parliamo del lema 60 che incrocia lema 223. Sigla. Allora, ricordiamo tutti prima che cos'è lema 60 223. Allora, io opero con lema 5, la 10, la 60 e la 223. Ok? Spesso mi dite, mettiamoci d'accordo tutti con gli stessi colori, ma non c'è bisogno anche perché in teoria dovresti saperle riconoscere senza avere il colore diverso. Quindi praticamente più aumento il numero, più la linea è orizzontale. Ok? Perché più aumento il numero, più la media mobile è lenta. Quindi la linea media mobile più reattiva sarà la 5, quella un po' meno la 10, quella più lenta è la 60 e la lentissima, quasi orizzontale, è la 223. Quindi anche se i colori fossero uguali, si deve saper riconoscere immediatamente. E poi cosa, come nasce fuori questa nuova tecnica? Nasce dal fatto che appunto con le crypto ho modificato la 50 che uso nei mercati azionari, che non mi piaceva, sporcava, sporcava. E ho fatto i test e vedevo che la 60 invece mi fa fare le conformazioni, mi fa da supporto, da resistenza nelle conformazioni. Quindi ho detto, wow, fantastico, allora 60, perfetto, infatti mi piace tanto tanto anche voi. E poi dopo ho testato la 200, non mi piaceva, fino ad ora sono riuscito ad arrivare alla 223, con lo stesso ragionamento. Detto questo, nasce poi un'altra cosa. Allora, sempre Bull Family, che è stata grazie a voi che ho trattato fuori la 223, perché mi dicevate sempre di testare la 200, e è venuto fuori un bel prodotto. Poi sempre dalla Bull Family Andy ha detto, a un certo punto mi dice, guarda che quando incrocia la 60 con la 223, è un bel rafforzativo, ok? C'è un bel cambio di trend. E ho detto, ma sai che c'è? Me lo studio un attimino e vediamo come poter sfruttare la cosa. Oggi ho fatto doppia operazione e l'ho pubblicato, dopo mi avete chiesto informazioni, mi ho detto, ok, perfetto, oggi faccio il video. Ovviamente, appena tornato dal lago, faccio il video. Quindi, ah sì, quindi quando ho pubblicato poi mi dicevate, bene, perfetto, appena vedete gli incroci, bom, perfetto, allora vado, cambio. No, allora, non si fa, non è che ogni breakout fa gli spike che vogliamo noi, ci sono delle situazioni, ok? Allora, io lo utilizzo soprattutto in due diversi modi. Allora, il top è quando c'è una discesa molto lunga, e in questo caso non ce l'abbiamo. In questo caso però abbiamo una salita molto lunga, ok? Quando incrocia, guarda che bello. Invece, vedi qua, ha fatto le finte, le finte, sempre la finta, quando è incrociato, guarda dove è andato, ok? Quindi salite o discese lunghe è il top, ok? Così eviti di beccare le finte, quindi le finte discese puoi tornare a fare i massimi. Con l'incrocio puoi evitare, ok? Questa tipologia di cosa. Vedi, bellissimo anche qua. Poi è tornato su, poi dopo quando è incrociato, guarda, guarda fin dove è arrivato. Quindi, in generale, qualsiasi orario del giorno o della notte, va bene un incrocio dopo che ha fatto una salita molto lunga o una discesa molto lunga, ok? Quindi uguale a questo, ma di discesa. E questo va bene a qualsiasi orario, giorno e notte. Invece, quello che piace sfruttare a me, è quello nell'orario pazzo degli americani, ok? Quindi, che va da circa mezzogiorno fino alle 1.30, le 2.00, che poi la pazzia va oltre all'apertura del NASA, quindi alle 15.30. Però, io cerco sempre uno short, almeno che, appunto, non arriviamo a mezzogiorno che è crollato, sono tre ore che sta scendendo, allora non cerco uno short. Ma, se siamo in un sale e scendi, faccio l'esempio di oggi, quindi eravamo comunque a rialzo, aspettavo un segnale per andare short, ok? Quindi, questo poteva essere un segnale, ma non sono andato short, perché poi c'era la 223, questo poteva essere segnale, ma il 223 è sempre tenuto. Invece, qua, questo era già un ottimo segnale, perché andava a rompere la 223 e rompendo portava giù la 60, che l'avrebbe fatto l'incrocio, e quindi dopo aveva forza per poter andare a spingere giù ulteriormente, ok? Quindi, io verso l'orario di pranzo, dalle 11.30, mezzogiorno, cerco sempre un segnale short, se, appunto, non siamo ai minimi da tre ore. Altrimenti è il contrario, cioè, se è dalle 9 che scende, arriviamo verso mezzogiorno, ecco, io cerco qualcosa per salire, quindi cerco un segnale forte, e stiamo parlando, appunto, di un incrocio con la 223. Ovviamente non serve solo con Bitcoin, però voi potete sfruttare l'incrocio che fa Bitcoin per poi andare short con gli altri, infatti oggi è fatto così. In questo caso Bitcoin era indietro, quindi praticamente ho beccato qualcosa di più debole rispetto a Bitcoin, che era NKN, che di fatti NKN ha fatto prima l'incrocio, e poi dopo l'ha fatto Bitcoin. Quindi si tratta anche di voler anticipare l'incrocio, quindi tu sai già che qua, quando noi siamo qua, questo non è incrociato, ok? Non c'è questo incrocio. E questo lo vedi dopo, ok? Sono tutti bravi a dire dopo. Invece no, noi dobbiamo calcolare che poi, spaccando, scenderà e porterà giù la 60 che scenderà più velocemente della 223, proprio per quello che vi dicevo prima. È una media mobile più veloce, quindi scenderà più in fretta e andrà a incrociare. Quando c'è l'incrocio, poi hai più possibilità che questo possa continuare, ok? Quindi è un rafforzativo. Quando vi ho spiegato tante volte, quando andate a fare qualsiasi operazione, se funziona, se è un breakout, per esempio, non solo in time frame a un minuto, ma anche con altri time frame, è un rafforzativo. Quindi è più probabile che non faccia la finta, ok? Questa è la stessa cosa, però se abbiamo un time frame a un minuto, senza andare a vedere altri time frame, l'incrocio vuol dire che praticamente è uno short con un doppio rafforzativo, ok? Ha un doppio segnale, quindi un segnale short perché va a rompere la 223, ma va a fare anche l'incrocio. Quindi hai più possibilità che possa, non possa rompere e poi tornare a fare la finta, ma che possa proseguire, ok? Se poi lo facciamo nell'orario della follia, quindi l'orario prima dell'arricato americano, è fantastico perché come l'orario è lì, è bellissimo poter andare short, tendenzialmente dura abbastanza. E ecco l'incrocio. Ovviamente se è il contrario, è una giornata negativa, quindi dalle 9 che scende, arriviamo verso mezzogiorno, 11.30, mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, luna, insomma, vedi. E lì c'è l'incrocio, si va long. Ok? Questo mi piace. Allora, vediamo intanto il risultato di oggi, quindi questa era la conformazione che vi stavo facendo vedere. E questa è NKN che, come potete vedere, quando sono partito qua, questo stava già incrociando, ok? Io sono entrato qua che proprio c'era già, stavo già quasi toccando, ok? E sono andato short, vedi? Non sono andato short qua, non sono andato short qua, ma ovviamente alla terza, al terzo tocco. Sapete che io amo il terzo tocco. Terzo tocco, addirittura andava nell'incrocio, quindi più rafforzativo di quello, non c'era niente, quindi boom, ho beccato questo. E nel frattempo sono andato anche con Bitcoin. Vedi, Bitcoin invece, quando io sono andato short, non sono andato short qua, perché era un po' troppo distante. Avrei potuto in realtà andare short qua, ma sinceramente non l'ho visto, l'ho visto dopo. Sapete che io opero su tre mercati, quindi non è facile per me beccare tutto. Comunque, non ho beccato qua, ma sennò andava già bene, perché rompendo mi avrebbe fatto abbassare la 60, ma non l'ho visto, non è un problema. Quindi ho detto, ok, è troppo tardi, ma se rimbalzo la vado a prendere. Rimbalzato, io sono andato short in questa prima candela rossa. Poi dopo la 10 è fatta da resistenza, è fatta il suo lavoro. E scendendo poi è andato a fare l'incrocio, ok? Io poi ho chiuso subito, perché qua dopo NKN, qua aveva fatto, qua c'aveva lo zero più o meno qua, quindi faceva il passaggio di candela in verde, da verde a rosso. Quindi ho chiuso qua, ho chiuso anche di là, che ha spaicato, ero già a posto. Risultati, 222 euro per Bitcoin e 320 per NKN, quindi siamo più di 500, tutte e due. E quindi ero posto, ho chiuso, ok? Però si poteva far correre, avrei guadagnato molto di più. Delle volte mi fido, lascio correre, chi se ne frega, delle volte quando vedo, cioè quando raggiunge già una certa cifra, fa già degli spike, io chiudo e basta, così non ho pensieri. Allora andiamo a vedere, quindi non tutte le incroci, ok? Io non è che ogni volta che vedo un incrocio vado, ok? Anche in questo caso ha funzionato, ma perché comunque questo è durato molto. Guarda quante ore, 1, 2, 3, 4 ore, 5, alla quinta ora è andato su, ok? Quindi se dura tante ore, ok, si può fare. Per esempio, quindi anche in altro momento, anche se non passa tanto tempo, però l'ora della follia. Allora, nell'ora della follia degli americani, quindi quando finisce lo short, quando è che si può tornare a comprare? Con l'incrocio, ok? Anche se è breve, però questo è un altro momento che è un incrocio, che è l'unica eccezione, che anche se è un incrocio breve, quindi è durato poco tempo, lo faccio perché appunto nell'ora degli americani fanno inversioni di tendenza, cioè è come se lo short non aveva senso e quindi deve recuperare, ok? Ha il non senso. Quindi tendenzialmente fa questa cosa, fa dei crolli anche molto più pesanti, oggi non ha fatto niente di che, poi io aspetto a comprare, aspetto poi l'incrocio e all'incrocio si può andare long, ok? E si torna alla normalità, quindi quando c'è un crollo che non ha nessun senso, è fantastico, non comprate, non fatevi prendere dagli spike, volete comprare sempre sui minimi, aspettate. Potete ovviamente anticipare l'incrocio, ma non di tanto, cioè dovete capire che col breakout andate a fare incrociare la 60, ok? È una cosa che all'inizio dovete farci un po' caso, dovete farci l'occhio, ovviamente può sembrare una cosa molto difficile in realtà lo è tantissimo, come tutto il mondo del trading, però voi semplicemente sapete che c'è questo, fate i vostri test senza soldi, fateci l'occhio, quando dite effettivamente sono due o tre zone che guardandoci ha funzionato, allora poi provi, provi con pochi soldi poi dopo, vedete, se vi trovate bene, avete già una tecnica, vi basta avere una tecnica per essere soddisfatti, quindi se poi per caso con tutte le tecniche che vi sto spiegando trovate anche solo una sola e usate la disciplina in quella sola tecnica, in teoria siete già a posto, cioè non è che c'è bisogno di fare granché, insomma, no? E questa non è niente male perché è una cosa che accade lentamente, ok? Quindi dopo c'è tempo, non è un time frame a un minuto o un EMA 5, capito? Che è una cosa molto veloce, quindi è molto interessante questo da sfruttare. Quindi questo è stato sviluppato, quindi la 223 io do il merito comunque alla Bull Family e questo incrocio sempre alla Bull Family, ok? Quindi mi piace tantissimo, quindi visto quante cose impara anch'io, avere una Bull Trading Family fa sì che non è che spiega e basta, io imparo, come anche voi, è bello che anch'io possa imparare delle cose e possiamo migliorare tutti, ok? Questa è una bellissima tecnica. Bene, quindi ricordatevi, riassumiamo, meglio se il trend dura da tanto tempo, meglio se c'è stato un mega spike, un bel pump a rialzo oppure un bel crollo a ribasso, quindi più è alto, più salito, più sceso, quando c'è l'incrocio ha più efficacia, ok? Quando fa delle cose su e giù, via di mezzo, eccetera, lasciate stare, ok? Poi cercate di farlo con dei titoli che si muovono tanto, perché se lo fate con un titolo che si muove del 3%, cioè l'incrocio ci guadagnate poco, fa le candelline che vi sembrano uguali, ma sono delle candelline che non vi danno soddisfazione, ok? Invece se lo fate su qualcosa che si muove tanto, quando fa un incrocio, fa il movimento, vi accontentate come ho fatto io oggi, alla fine ho fatto un movimento piccolo, veloce, 3 candele, già a posto, è finito, capito? Anche se hai bisogno di fare tutto il movimento dell'incrocio, poi man mano diventerete anche più bravi di me, questa tecnica magari vi piace, capirete quanto potete far correre, sapete che io ho questa malattia che devo chiudere sempre, e niente, è a posto, voi magari siete più bravi di me, farete scorrere, però tendenzialmente se lavorate con qualcosa che si muove di più, è più facile essere soddisfatti perché le candele sono più grandi, ok? Quindi vi consiglio come sempre, all'inizio osservate basta, tirate la vostra linea, segnate il punto, fateci poco caso, quando vedete che effettivamente la cosa si sta ripetendo, vi state proteggendo l'occhio, vi piace, avete capito come funziona, potete iniziare a testare con pochi soldi, bene, detto ciò, scrivetemi se avete capito, eventualmente farò la versione numero 2, e commentate, likeate, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a tutta la Bull Family, quindi anche due gruppi Telegram, a Discord, e niente, ciao ragazzi!